Sì, è buono! E' ricomciata? Come si è arrivata? Ma quel petalucino è tremendo, eh! Ma qui ci siamo per sede, scusa! Paghiamo solo i soldi per niente! Ma se c'è, se c'è il cosa... Prendiamo un campo! Ma se c'è il cosa qua... Allora piangi? La piangi? La piangi, la piangi! Quindi si lavora in pratica, quanti giorni sono? Sette giorni! Sette giorni! Sui tre turni? Sette giorni di lavoro... Il 25 dovrebbero rientrare qualcuno! Sì, sì! Che cosa devo fare? Ma si possono calcolare già le ferie quelli del 2012? Eh! Le ferie, guarda... Per legge vanno da gennaio a gennaio... Da gennaio a gennaio... Da settembre... Da settembre... Da settembre... E legge dice da gennaio a dicembre... Quindi... Quindi... Si vuole che... Prima di rinconciare la cazza... Le ferie... Uno che aveva rinconciare la cazza... Prima di rinconciare la cazza... Prima di rinconciare la cazza... Che cazza! Ma speriamo che... Sai cosa facevano a noi? Io già sono... Il discorso è questo qua... Perché tu stai in pensione... Bisogna fare anche a scendere... Angelo... Ce n'è una forchetta qua... C'è un problema... C'è un problema... C'è un problema... Tu in casa sei sempre le prese... Bello... Bello... Ma se io sono le prese... Devo fare le prese... No... No... Stamattina parla poco... E però... Dice no... Tu stai la faccia di agli... Dio... Catto su... Che i giovani sono a spasso... Non è... Il lavoro... Il lavoro ce n'è... Perché tutti vanno i giovani hanno... No... No... Tutti vanno i giovani... Prendi... 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 No... Perché non gli danno... Non gli danno... E... Quando deve andare in pensione... Per fare i 40 anni... Così va bene... Si... Intanto... Diamo i giovani... No... Ogni anni... Che passa... Aumentano... Le pensionate... Sì... No... No... Ma secondo me... Le pensionate... Perché faranno... La legge... Fin da quando... Tu... Lei pensi... Che io... Ho 23 anni... Di via... No... 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 Perché... No... Non sto... Prendendo te... Ti prendo qua... Quasi tutti questi... Prendendo... Fare per tutti... Avremo dato posto di lavoro... A tanti giovani... Perché... Comunque... I dati che dà sulla casa... Non sono... Che consentiva... Fatto a casa... Ciao... Ciao... Ciao...